Ciao, ciao stelline, come state? Io ovviamente spero che vada tutto, 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 molto, molto, molto bene Benvenuti o ben ritrovati sul mio canale in un nuovo video Oggi vi mostrerò sia degli accessori sia dei vestiti del sito Shane Come sempre vi do il mio codice sconto che è Q4 Black Che vi scriverò anche da qualche parte E potrete avere uno sconto del 15% per ordini superiori ai 39€ Questa volta vorrei iniziare dagli accessori Di solito inizio col farvi vedere vestiti Ma questa volta cambiamo un po' Come sempre sono molto, molto, molto soddisfatta di tutte le cose scelte E parto con le prime due cose Che ero molto, molto, molto curiosa di provare Allora, la prima è contenuta in questa scatolina Ho preso due pompe da bagno Già le scatoline mi sono piaciute molto E devo dire che il profumo è davvero molto forte Vedete qui c'è scritto C'è scritto Bat Bomb E ha questa immaginetta qui Allora questa l'ho presa semplice C'è un profumo davvero molto, molto forte Devo dire la verità più forte E delle pompe da bagno Lasci che sono le uniche Che ho provato in vita mia Tra l'altro costano davvero poco Faccio anche un po' di suoni E' contenuta In questa pellicola Meglio perché Così non si disperdono i granellini Ce ne sono di tantissimi, tantissimi tipi Non vi so definire il profumo Devo leggere in descrizione Magari c'è scritto Nel caso in cui La trovo e la scrivo Da qualche parte Sempre qui intorno Nel video Non so Per chi mi segue su Instagram Sa che Cioè per chi mi segue da tanto tempo Io spesso pubblico delle storie Quando faccio il bagno E giocherello un po' con la schiuma Oppure ci sono delle storie Dove vi faccio vedere Le mie pompe da bagno in azione In vasca Che sono tutte colorate Eccetera E mi avete sempre chiesto Si Potessi fare un video del genere Con la schiuma Eccetera Ci ho pensato spesse volte E mi devo un po' ingegnare Per portare tutto in bagno Sia microfono, ring E Il treppidi per registrare Da mettere Dove devo mettere il telefono Mi sa che ho bisogno Di un aiuto E comunque Un video che devo fare di notte Il bagno è vicinissimo Alla stanza dei miei genitori Quindi È un po' problematico Oppure un pomeriggio Che sono da sola a casa Cosa ormai Rarissima Cioè quasi impossibile Però è un video Che ci darei a fare Vi dico la verità È un programma ormai Da tantissimo Tantissimo tempo Ok Questa è la prima L'altra è molto 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 più Interessante E Non vedo l'ora di provarla La scatolina è più grande E qui c'è scritto Rainbow Cloud Qui dietro c'è scritto qualcosa Tipo gli ingredienti Le scatoline sono molto carine Allora a parte che dentro C'era questa paiozza Ora la caccio E vi faccio vedere Che sotto questa nuvoletta Ci sono tutti Questi colori Ho visto la foto Sul sito E Fa dei colori bellissimi In vasca Cioè praticamente Quando la La mettete in acqua Fuoriescono tutti questi colori Contemporaneamente Secondo me L'effetto è davvero Davvero carino E questa qui La conserverò La conserverò Nel caso in cui Io riesco a fare quel video Anche in questo caso Il profumo è fortissimo Io adoro questo suono Ok Poi ho preso una cosa Che mi serviva Visto che Come vi ho detto Da un po' di tempo Mi sto facendo le unghie Da sola E si vede Queste Le ho fatte io Qualcune anche ricostruite Le ho allungate Ho cercato di fare Una sorta di Baby boomer Credo si chiami E devo dire Me la cavo Abbastanza bene Quindi siccome Ora è tutto 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 l'occorrente Per fare Le unghie Come una vera Unicotecnica Mi mancava Questa qui Che Che come potete notare Serve per Far vedere Cioè in realtà Serve all'unicotecnica Per far vedere Alle clienti Tutti i colori Che si hanno a disposizione Però Mi è sempre piaciuto E siccome vorrei Fare una collezione Di vari colori Perché no Comunque Perché no Comunque Mi fa comodo Ricordarmeli Invece di Aprire Di aprire I I vasetti Ogni volta E vi faccio vedere Faccio vedere Per il momento Quali ho Quali colori ho Allora Ho questo Poi Ho questo Poi ho questo Poi ho questo Rosso Questo Che è più scuro Poi ho questo Che vivo Indosso Tipo il penultimo video Poi c'è questo Poi c'è questo Qui Che è un Mattone E poi E poi c'è il nero E un altro Che manca E E poi quello che manca È un biancolatte Che ancora Devo inserire In realtà Ce n'erano anche Altre di queste Però le ho tolte Perché non mi servono Tutte queste palettine Anzi Già così Sono Troppe Infatti Magari Le tolgo E le aggiungo Di volta in volta Poi Sempre In tema Unghie Io già Ho un pennello Della passione Unghie Che è un brand Che amo E secondo me Il più valido In circolazione Di cui ho tutti Gli attrezzi Praticamente Tra gel Lime Costruttori Base Tutto E ho anche un pennello Molto Molto valido E quindi Siccome vorrei Un pennello Apposta Per stendere Il colore Perché quello che uso Io Vorrei Destinarlo Solo alla stesura Del gel Allora Ho approfittato E ho preso Questo set Di pennelli In rosa Ma sul sito Ce ne sono Tantissimi Tantissimi tipi Anche da trucco Io oggi Ne ho provato uno Che è lì Sulla scrivania E mi sono trovata Molto bene Vedete Ce ne sono Diversi C'è anche Il dotter Ci sono Quelli più piccoli Da precisione Questi a vittaglio E poi Ho acquistato Altri anelli Io sono fissata Con gli anelli E questa volta Li ho presi Anche dorati Sono molto 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 carini Forse non si vedono Bene Ma Mi piacciono Tantissimo Tantissimo Sono molto Fini Ed eleganti Ma ovviamente Non potevo Non prevederli Anche Anche In argento E questo set Era molto Ricco Tra l'altro Gli anelli Non costano Nulla Cioè Pochissimo Veramente Pochissimo Questi sono Quelli In argento E questo set L'ho preso Soprattutto Per Per Quest'anelli Qui L'ho preso Soprattutto Per lui Mi è piaciuto Tantissimo Molto 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 Bello Ma ce ne sono Tanti altri Carini Poi c'è questo Che ve lo devo far vedere Per forza Questo qui Con la luna Anzi Ce ne sono Due con la luna C'è anche Questa Tra l'altro Questo Anche La Anche La stellina Troppo carina Ok Ora Passiamo Ai vestiti Innanzitutto Come sempre Vi ricordo Che ogni capo Ha la sua Bustina Che sinceramente Mi piace Questa cosa E poi sono Utili Possono essere Reutilizzabili La prima cosa È Questo Giubinetto Con Questo Collo Bellissimo Così È un po' Complicato Da farvelo Vedere Bene Quindi Ve lo vedrete Indossato Sinceramente L'ho adorato Da subito Dentro È molto Morbido E mi piace Tanto il tessuto All'interno Credo sia Perfetto Per le Mezze stagioni E per quando Non fa Troppo Vreddo Mi piace Anche Mi piacciono Anche Questi Laggi In vita Che permettono Appunto Di Indossarlo In maniera Un po' Più Stretta Ma un po' Più Abitato A seconda Di Come piace Ma io Adoro Questo Cappuccione C'è davvero Bellissimo Sinceramente Mi ero affidata Ai commenti E alle recezioni Come sempre Sapete che Sono importantissimi Quindi guardate Sempre Le recezioni Le foto Eccetera Importantissimo Non solo per Capire la qualità Dei tessuti Ma soprattutto Per le taglie Ogni taglia Me la scriverò Qui Inoltre Il cappuccio Si può anche Staccare Il che lo rende Ancora più Versatile Per le mezze Stagioni Mi è piaciuto Tanto 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 Poi Ho scelto Questa Tutta Verde Con Cappuccio E questi Laccetti Bianchi Ne avevo Una simile Io adoro Questo colore Se mi conoscete Sapete che Il verde Insieme al nero Sono i miei colori Preferiti Mi è piaciuto Davvero tanto E questo è un completo Quindi Filp E pantalone A tuta Anche questo Me lo vedete Indossato Lo trovo Molto Molto Comodo Ogni tanto Io vado a fare Delle passeggiate Perché Vicino a casa Mi ha un percorso Molto Carino In montagna E spesso Siamo i miei fratelli Per farci una passeggiata Scendiamo E ci andiamo a fare Questo percorso Io ho la montagna Praticamente Alle mie spalle E quindi Mi serviva Un'altra tuta E ho un po' dato Per questa Che mi piace Tanto 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 E inoltre Anche le scarpette Abbinate Ora invece Passiamo a qualcosa Che si può sfruttare Molto di più Per la sera Un po' più Così Per uscire E ho scelto Questa Questo body Che io trovo Stupendo Con queste Maniche Un po' Agnottante Con questa Spallina Così Trasparente La manica Finisce Stritta E Soprattutto Queste bua Di pelluto Mi piace Troppo E un body Ripeto Uno scollo A B E questa Mi piacerebbe Intostarla Su un pantalone Nero Ma anche Su un jeans Secondo me Va benissimo Come sempre Io I body Di scena Li trovo Comodissimi Hanno queste Cioppette Qui Tra l'altro Ci sono Tre bottoni Tre cioppe E le vedo Anche Pelle Resistenti Non vedo L'ora Di uscire Di trovare L'occasione Giusta Per indossarlo Ovviamente Non potevo Non prenderla Nera Non ricordo Se c'erano Di altri colori Non me ne sono Proprio interessata Perché Questo capo Per me Deve essere Di colore Di colore Nero Ultimo capo Sul Sul quale Ero un po' Scettica Perché Non l'ho Mai Mai Acquistato L'ultima Volta Che ho indossato Un capo Del genere Avevo Circa Forse Otto Anni Mi ricordo Avevo Un completo Di velluto Non l'ho mai Più usato E ho deciso Di riprovare E di prendere Un leggings Di velluto Vi dico La verità Ho avuto Davvero Davvero L'imbarazzo Della scelta Sul colore C'era così Blu E di un altro Colore Che adesso Non ricordo Ma ero molto indecisa Tra questo colore E un blu verde Che era davvero Molto bello Però Volevo cambiare un po' E l'ho preso così È molto È molto È molto Aderente Però Veste comodo Veramente Molto comodo Questo È una S E sinceramente Erro indecisa Se prendere La XS O la S Ma per fortuna Ho preso La S Perché credo Che l'altra taglia Taglia più piccola Mi sarebbe andata Stritta Questo Secondo me È molto carino Da indossare Con dei tacchi Con un bel decol tempo Essere sfruttato Anche in un altro modo Magari Un modo un po' più informale Io riprendo La mia pallina Che mi piace tanto Questo sono Mi ha conquistato E Vi ricordo Vi ricordo Il mio codice sconto Con 4 black Che vi scriverò Sia in un commento In evidenza Sia Nell'info box E potete soffrire Del sconto Del 15% Per ordini Superiori Ai 39 euro Fatemi sapere Qual è l'accessorio O il capo Che vi è piaciuto di più Se vi va Io sinceramente Me lo chiedete spesso Qualcuno Mi ha contattato Su Instagram E mi ha ringraziata Per avermi fatto Scoprire Questo sito E chi compra Per la prima volta Poi si trova bene E io ne sono E io ne sono molto contenta Perché Non vi consiglierei mai Qualcosa Che io per prima Non uso Non mi piace E con Shane Finora Mi sono sempre Trovata bene Ovviamente La qualità Di vestiti Cioè non vi aspettate Tessuti di seta Ma questo è ovvio Lo capite già Dal prezzo Davvero Irrisorio Di capi E molti La qualità Supera il prezzo Tipo il primo capo Che vi ho mostrato Io non avrei Mai pensato Che Per un prezzo E molto Molto bene Ecco sicuramente Tra tutti Questo è il capo Che vi consiglio Di più Del giubinetto Che vi ho fatto Vedere All'inizio E anche di quello Non ricordo Se c'è anche Di altri colori E a proposito Anche i link Di tutti i capi Li troverete Cioè Nell'info box Io ora Vi saluto Vi mando Una buonanotte Spero 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 Che il video Vi sia piaciuto Che io vi abbia Rilassato Tenuto compagnia E Ci vediamo presto Tu Fai bisogno Buonanotte Buonanotte